ciao ragazzi nuovo video tutto tec oggi come di consueto quando ci avviciniamo al natale anche noi vogliamo presentarvi le offerte che secondo noi quindi selezionate da noi le offerte che possono stuzzicare l'acquisto per rendere sempre di più la vostra casa smart quindi andremo ad abbracciare gli eco e naturalmente in offerta e anche gli accessori che potete abbinare per cominciare ad utilizzare il vostro eco a casa e divertirvi a fare un po di cosette e qualche prodotto tecnologico in generale io direi allora di cominciare e vi facciamo vedere direttamente dallo schermo perfetto ragazzi il primo prodotto che vogliamo proporvi è naturalmente il nuovo eco dot di quinta generazione modello del 2022 settembre 2022 ad un prezzo originario di 59 euro 99 lo trovate attualmente in offerta come c'è stato poco tempo fa a 29 euro e 99 stiamo parlando di un prodotto che è migliorato tantissimo per quanto riguarda la parte audio e vi dà la possibilità di poter remotare controllare vocalmente tutti i dispositivi smart che avete nelle vostre abitazioni passiamo poi agli eco show quindi eco show 8 di seconda generazione del 2021 quindi avete già un polliciaggio che comunque vi consente di guardare per bene non come quello che ho io il 5 ma si veda proprio molto bene comunque un polliciaggio da abbastanza importante schermo hd naturalmente prezzo originario di 129 99 in offerta a 74 euro e 99 queste sono tutte offerte di amazon solo per il periodo natalizio dal 5 al 22 di dicembre e naturalmente come non citare il famoso eco dot di terza generazione e diciamo quel prodotto entry level per tutti coloro che vogliono entrare nel fantastico mondo nel nostro assistente vocale prezzo 24 euro 99 è vero per coloro che tengono d'occhio questo prodotto da tanto è capitato anche di vederlo a 17 euro e 99 ma vi posso garantire che già 24 99 è già un buon prezzo con questo prodotto potete fare tutto quello che vi occorre per la casa per poterla remotare tutti i prodotti smart ha un po più la carenza per quanto riguarda la parte audio quindi se avete intenzione di acquistare un eco dot per ascoltare anche la musica sicuramente vi consigliamo l'eco dot di quinta generazione andiamo sempre sugli eco show ma con un polliciaggio ancora più importante l'eco show 10 di terza generazione schermo sempre in hd con movimento avevamo fatto anche qui dei video appositi su questo prodotto che vi vediamo andare a cercare all'interno del canale prezzo originario di 249 euro e 99 prezzo in offerta 180 e 189 euro e 99 un prodotto che offre una qualità audio veramente elevata e qui abbiamo l'ultimo nato in casa eco show abbiamo l'eco show 15 un prodotto full hd da 15,6 pollici con il nostro assistente vocale naturalmente integrato e viene riportato grazie all'ultimo aggiornamento presente su questi dispositivi su questo dispositivo anche la fire tv quindi tutte le funzioni della fire tv le troverete anche all'interno di questo prodotto come viene riportato il telecomando non è incluso ma esiste una funzione su questa applicazione dove potete utilizzare un telecomando virtuale oppure acquistare separatamente un telecomando di terza generazione prodotto che partiva da un prezzo di 249 euro e 99 a 219 euro e 99 e questo era uno di quei prodotti che si era si aveva la paura che non andasse mai in offerta ma invece fortunatamente e continuiamo con il nuovo ecodot di quinta generazione per intenderci quello color orologio con tutte le funzionalità ben dettagliate in vari video che abbiamo fatto anche comparativi con quello precedente della generazione precedente di quarta generazione questo è il modello 2022 sconto di 30 euro col prezzo originario di 69 99 99 a 39 euro e 99 e passiamo un classico ad abbinare i nostri dispositivi una bella presa intelligente wifi della tapo tp link un'ottima marca infatti come potete vedere anche le recensioni sono migliaia e migliaia sempre altissime ottime funzionalità ce l'abbiamo l'abbiamo testata e anche trovati video nel canale come al solito e sono ad un prezzo di 9 euro e 99 anziché 12 euro e 99 quindi con 10 euro vi portate a casa una bella presa smart e potete a proposito domotizzarvi l'albero di natale tutte le luci di casa attaccando magari una bella ciabatta dove attaccate tutte le vostre luci e con semplicemente questa presa prima di andare a letto anziché star lì a impazzire perché di solito la ciabatta la metti nel punto dove non si vede ti devi arzigogolare per andarla a staccare e spegnere e con questa invece vi basterà dare l'input al vostro dispositivo domotico e di spegnere non so il natale e vi spegnerà tutto passiamo poi ad un prodotto che anche questo abbiamo testato abbiamo avuto anche delle strisce led da poter mettere dietro il televisore che cambiano colore con una telecamera che guarda lo schermo cambiano colore in base al televisore ma qui andiamo su una striscia led classica da 5 metri che ha molteplici possibilità di giochi di luce può essere controllata poi dal nostro assistente vocale e scorrendo vediamo che il suo prezzo è 27,99 ma abilitando col flag il coupon del 20% arriviamo ad un prezzo di circa 22 euro e 30 22 euro e 40 e per una striscia led di questa proporzione di questa qualità sicuramente è un prezzo veramente basso passiamo al comparto telecamere da interno e qui vogliamo andarvi a consigliare un marchio che come vedete anche dalle recensioni marchio ben apprezzato parliamo della ezviz c6n telecamera testata e attualmente ancora utilizzata da micchi potete prevedervi anche di questo il video sul canale audio bidirezionale tracciamento del movimento visione notturna compatibile con la nostra assistente vocale rotazione a 360 gradi la trovate nelle colorazioni bianca o nera quella con lo sconto maggiore è la colorazione bianca che da un prezzo di 39 99 passa a 29 euro e 99 altra telecamera che ci ha inviato a ezviz e che tuttora sta utilizzando marco e la ezviz bc1c telecamera ad esterno può essere utilizzata anche all'interno tutta una serie di funzionalità dal rilevamento delle persone la visione notturna a colori in bianco e nero il materiale comunque si sente la differenza con tante altre telecamere che abbiamo avuto modo di testare e la sua peculiarità maggiore che ha una batteria interna che da quello che stiamo verificando ha una durata di 210 giorni quindi grossa durata la potete ricaricare con l'usb e ha un'impermeabilità ip66 questo vi consente di poterla montare tranquillamente all'esterno allora si ha un prezzo di 119 euro e 98 ma potete applicare lo sconto di 20 euro con il coupon e quindi arrivare ad un prezzo di 99 euro e 98 passiamo un altro prodotto a un year smart control un prodotto a cui noi teniamo particolarmente quando tutti continuavano a sponsorizzare il famoso broad link noi ci siamo impuntati su questo prodotto panamalar prodotto che ha sempre funzionato si è sempre configurato in un attimo e siamo riusciti a impostare tutti gli scenari tutte le routine abbiamo fatto diversi video anche su questo prodotto e lo utilizziamo tuttora e invece il broad link ce l'abbiamo beatamente o nel cestino o nel cassetto ed è fermo lì perché abbiamo avuto anche lì una miriade di problemi che chi ci segue da tempo sa benissimo abbiamo un prezzo di 20 euro e 98 e la possibilità e la possibilità di applicare con il flag un coupon del 10 per cento quindi arriviamo a un prezzo di circa 18 euro passiamo invece sempre all'ambito sicurezza un sensore per porta e finestre che poi potete utilizzare per tante altre cose tipo per l'armadio per capire se magari qualcuno vi ha aperto l'armadio voi avevate dentro magari regali di natale vi arriva poi il pop up che vi avverte attenzione è stato aperto l'armadio comunque scherzi a parte è un sensore che abbiamo testato qui sul canale trovate il video scorrendo tra i tanti quasi 500 video che abbiamo preparato ed è naturalmente compatibile con la nostra assistente vocale più google home ed è un accessorio smart che collegato la vostra finestra la vostra porta vi invierà un pop up dove vi dirà che la finestra la porta o comunque dove l'avete applicato non è più nella posizione originale che voi avevate impostato all'inizio prezzo 21 euro e 99 ma sempre con la possibilità di applicare il coupon del 20 per cento scendete sotto i 20 euro passiamo a un marchio che ci ha inviato vari prodotti tra cui questa lampada da comodino led varie funzioni compatibile con la nostra assistente vocale naturalmente luce notturna led dimerabile un bel prodotto anche questo testato trovate testato trovate il link nel canale e qui abbiamo un bel bundle di sconti un bel pacchetto di sconti cioè vi viene già fatto uno sconto del 13 per cento con un prezzo finale di 45 99 ma in più potete andare a flegare e applicare al checkout un ulteriore 20 per cento di sconto arrivando a pagarla circa 37 euro più o meno naturalmente tutti i prodotti che avete visto finora li trovate qui sotto in descrizione vi basterà cliccare sul link che vi rimanda direttamente al prodotto che vi interessa sul sito di amazon il prodotto lo potete acquistare tranquillamente non ci sono intermediari vari o che cosa quindi una volta cliccato vi rimanda di là e potete effettuare l'acquisto e soprattutto lo potete acquistare tranquillamente perché sono tutti i prodotti che abbiamo testato assolutamente trovate i video qui nel canale ormai siamo quasi a 500 video più o meno e di cose ne abbiamo testate parecchie bene ragazzi io direi che per questo video è tutto e speriamo di avervi dato qualche idea e ci vediamo al prossimo video ciao